con le vostre candele accese offerte alla madonna di loreto preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla vergine lauretana tutte le vostre intenzioni dal santuario della santa casa di loreto preghiamo l'angelus e il santo rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione preghiamo maria regina degli apostoli per il papa francesco per tutti i pastori il signore gesù che li ha scelti li assista con il suo spirito e di conservi come guide del popolo santo di dio nel nome del padre del figlio e dello spirito santo l'angelo del signore portò l'annuncio a maria e della concepi concepi per opera dello spirito santo eccomi sono la serva del signore si compia in me la tua parola e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi prega per noi santa madre di dio perché siamo resi degni delle promesse di cristo nel primo mistero doloroso meditiamo gesù che prega nell'orto degli ulivi e su da sangue pater nostro e quei sinceri santificetto il nome in tu a te veni a te regno in tu fia volontà tua sicuramente in cielo e in terra pane nostro un quotidianum da nobis odie e dimite nobis debita nostra sicuramente dimitimus debitoribus nostris e ne nostri inducas in tentazione se te libera nostra mano a maria regina della pace prega per noi prega per noi ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui murieribus ed e benedictus fruttus ventris tui iesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli amen l'ho dato sempre sia il santissimo nome di gesù giuseppe maria nel secondo mistero doloroso meditiamo gesù che viene fragellato alla colonna padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male amen Maria regina della pace prega per noi prega per noi ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli amen lodato sempre sia il santissimo nome di gesù giuseppe maria nel terzo mistero doloroso meditiamo gesù che viene incoronato di spine padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen maria regina della pace prega per noi prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Noma Anmurico per nulla l'essere risposto che ta' essa. Osteramodento sodoiv anisodov tu saput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sarà il Calvario, carico della Croce e incontra Maria, sua Madre. Padre nostro che sei nei cieli e sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, 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 prega per noi. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, amén Ave Maria, cheia di grazia il Signore è convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, amén Ave Maria, cheia di grazia il Signore è convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, amén Ave Maria, cheia di grazia il Signore è convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, amè Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, amè Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, amè Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, amè Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora è sempre Nei secoli dei secoli, amè Lodato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria Nel quinto mistero doloroso Meditiamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Comincelo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male, amè Maria, Regina della pace Prega per noi Prega per noi Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio e ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen L'ho dato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù Giuseppe Maria Salve Regina Madre di misericordia Vita, dolcezza e speranza nostra salve A te ricorriamo E sui figli di Eva Adesso speriamo Cementi e piangenti In questa valle di lacrime Orso dunque, Avvocata nostra Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi E mostraci dopo questo esilio, Gesù Il frutto benedetto del tuo seno O clemente, o pia, o dolce Vergine Mario Signore Pietà Cristo Pietà Signore Pietà Signore Pietà Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Prega per noi, Specchio di Perfezione, Prega per noi, Sede della Sapienza, Prega per noi, Fonte della nostra gioia, Prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi, Tabernacolo dello Spirito Santo, Prega per noi, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mestica, Prega per noi, Torre della Santa Città di Davide, Prega per noi, Fortezza inespugnabile, Prega per noi, Santuario della Divina Presenza, Prega per noi, Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del Cielo, Prega per noi, Stella del Mattino, Prega per noi, Salute degli Infermi, Prega per noi, Rifugio dei Peccatori, Prega per noi, Conforto dei Migranti, Prega per noi, Consolatrice degli Afflitti, Prega per noi, Aiuto dei Cristiani, Prega per noi, Regina degli Angeli, Prega per noi, Regina dei Patriarchi, Prega per noi, Regina dei Profeti, Prega per noi, Regina degli Apostoli, Prega per noi, Regina dei Martiri, Prega per noi, Regina dei Confessori della Fede, Prega per noi, Regina delle Vergine, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina Assunta in Cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degne delle promesse di Cristo. Preghiamo Dio, il Tuo unico Figlio, che ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la Sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi, che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. A pagina 9, la preghiera insieme. Pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa Santa Casa, con il Tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il Tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della divina grazie, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù, lo Spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sì, il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e Tu, Principe della Milizia Celeste, quel potere che ti viene da Dio, incatena l'inferno Satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regi e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo donna loro, Signore, e prenda ad essi la luce perpetua. Rivolsi in pace. Per l'intercessione della Beatissima, semprevergine Maria, su di voi, sulle vostre famiglie, in modo particolare, sui sofferenti, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagna il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. E il tuo sì che ci apre il cuore, Santa Maria, prega tu per noi. E il tuo sì nella Santa Casa, che ci protegge e consola. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. alla tua fede, della tua fede, della tua preghiera. Ave Maria. Ave Maria. Grazie.